Tutte le domeniche pomeriggio mettiamo in moto questo aeroplano qua che si chiama Jet Provost. Jet Provost è un aeroplano addestratore usato dalla Royal Air Force serviva per addestrare i piloti militari a macchine più complesse. Controlliamo l'olio. Olio a 11. Qui ci sono le batterie che andremo ad attaccare al momento opportuno. Questo è il cavo per la batteria ausiliaria. Allora se non sono sbuaccati i comandi questo qua non va avanti più di un terzo. Il maschio è 2339, close e aeroplano 2. Addirittura il massimo esagero mi fa vedere 10 dita, 9 dita, 90%. Ecco le candelette che ci è tirando il combustibile. Ecco la domina che gira. Un applauso a tutto l'equipaggio degli amici di Volandia e un applauso anche al nostro pubblico che ci segue sempre tutte le domeniche. Massimo Zottola è egregiamente accompagnato dal comandante Angelo Boscolo. Grazie. 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 Grazie.